Avevo progettato di andare in America. La consuetudine prevalente è di andare a Londra, ma io non volevo andare a Londra. Stavo solo pensando come fare per andare a New York. Stavo progettando, andrò per questa via, passando per Tokyo, in Giappone o per quell'altra? Qual è la via più economica? Questo era il mio proponimento, il mio obiettivo era sempre New York. Talvolta sognavo di essere venuto a New York. Srila Prabhupada. Scrivere era solo metà della battaglia, l'altra metà consisteva nel pubblicare. Entrambi, Bhaktivedanta Swami e il suo maestro spirituale, volevano vedere lo Srimad Bhagavatam stampato in inglese e distribuito su vasta scala. Secondo gli insegnamenti di Srila Bhaktivedanta Sarasvati, i più moderni metodi di stampa e distribuzione dei libri, dovevano essere usati per diffondere la coscienza di Krishna. Benché molte opere di saggezza Vaishnava fossero già state perfettamente presentate da Rupa Goswami, da Sanatana Goswami e da Jiva Goswami, i manoscritti stavano ora deteriorandosi nel tempio di Radha Damodar e in altri luoghi, e anche le opere dei Goswami stampate dalla Godia Mat non erano state ampiamente distribuite. Uno dei suoi confratelli chiese a Bhaktivedanta Swami perché sprecasse tanto tempo e sforzi nel tentativo di scrivere un nuovo commento dello Srimad Bhagavata, quando già molti acciari lo avevano commentato. Tuttavia, la mente di Bhaktivedanta Swami non era dubbiosa. Il suo maestro spirituale gli aveva dato un ordine. Gli editori commerciali non erano interessati alla serie di 60 volumi del Bhagavata, ma egli non si interessava di nient'altro che della presentazione paramparà di 60 volumi diversi, di significati letterari e di spiegazioni, basati sui commenti degli acciari precedenti. Per pubblicare quei libri era necessario raccogliere donazioni private e pubbliche, a prezzo del proprio sacrificio. Radha Damodar era certo il luogo migliore per scrivere lo Srimad Bhagavata, ma non per stampare e pubblicare. Per far ciò, egli sarebbe dovuto andare a New Delhi. Tra le sue relazioni di Delhi, Bhaktivedanta Swami prese in considerazione Itzaran Sharma, un probabile sostenitore. Benché, quando egli era vissuto nella casa di Mr. Sharma, questi lo avesse apprezzato più come membro di una categoria che come individuo, almeno Mr. Sharma era incline ad aiutare i Sadhu e lo aveva riconosciuto come una persona religiosa in modo genuino. Perciò, quando Bhaktivedanta lo aveva avvicinato nel suo ufficio, Mr. Sharma si era mostrato desideroso di aiutarlo, considerando un dovere religioso il fatto di diffondere lo Srimad Bhagavata. Itzaran Sharma era qualificato ad aiutarlo per due ragioni. Era il segretario di JD Dalmia, un ricco filantropo, ed era il proprietario di un'azienda commerciale, la Radha Press. Secondo Mr. Sharma, Mr. Dalmia non avrebbe fornito direttamente denaro a Bhaktivedanta Swami, anche se il suo segretario glielo aveva suggerito. Per questa ragione, Mr. Sharma consigliò a Bhaktivedanta Swami di andare a Gorakhpur e di mostrare il suo manoscritto ad Anuman Prasad Poddar, un editore di scritti religiosi. Accettando il suo buon consiglio, Bhaktivedanta Swami viaggiò fino a Gorakhpur e a circa 475 miglia da Delhi. Anche questo viaggio costituì uno sforzo. Il libro Mastro giornaliero di Bhaktivedanta Swami indicava un conto di 130 rupie l'8 agosto 1962, il giorno in cui era partito per Gorakhpur. Quando egli raggiunse Laknow, il conto era sceso a 57 rupie. Il viaggio da Laknow a Gorakhpur costò altre 6 rupie e il riksha fino alla casa di Mr. Poddar costò 8 paescia. Ma il viaggio era ben degno del costo. Bhaktivedanta Swami si presentò a Mr. Poddar con la lettera di presentazione di Hitzran Sharma e gli mostrò il suo manoscritto. Dopo averlo brevemente esaminato, Mr. Poddar concluse che si trattava di un lavoro molto ben sviluppato che poteva essere sostenuto. Fu d'accordo nell'inviare una donazione di 4.000 rupie al Dalmia Trust di Delhi, somma che doveva servire alla pubblicazione dello Srimad Bhagavatam di Sri A.C. Bhaktivedanta Swami. Gli editori indiani non sempre richiedono il pagamento completo prima di cominciare il lavoro, a patto che ricevano un anticipo sostanziale. Dopo che il lavoro è stato stampato e rilegato, il cliente che non ha provveduto al pagamento completo, prende una porzione di libri corrispondente alla somma versata e dopo aver venduto i libri usa il profitto per acquistarne il più. Bhaktivedanta Swami valutò che la stampa di un volume costasse 7.000 rupie, perciò ne mancavano 3.000. Raccolse poco più di 100 rupie andando di porta in porta nella città di Delhi. Poi tornò al Radha Press e chiese a Hitzaran Sharma di cominciare. Mister Sharma ha consentito. La Radha Press aveva già prodotto una buona quantità dei primi due capitoli, allorché Bhaktivedanta Swami obiettò che il carattere non era sufficientemente grande. Voleva un carattere da 12 punti, ma la Radha Press disponeva soltanto del carattere da 10 punti. Allora Mister Sharma ha consentito a portare il lavoro presso un altro stampatore, Mister Gottman Sharma della OK Press. Nello stampare il primo volume del primo canto dello Srimad Bhagavatam di Bhaktivedanta Swami, la OK Press stampò 4 pagine del libro due volte sulle facciate di una pagina di carta che misurava 50 cm x 66. Tuttavia, prima di stampare al completo le 1100 copie, essi stamparono una bozza che Bhaktivedanta Swami avrebbe esaminato. Poi, seguendo le bozze, corressero la composizione e fecero una seconda bozza, che Bhaktivedanta avrebbe nuovamente esaminato. Usualmente si trovano errori anche nelle seconde bozze e in questo caso era necessario una terza bozza. Se queste ultime risultavano scevre di errori, allora si sarebbero stampate le pagine finali. A questa andatura, Bhaktivedanta Swami aveva la possibilità di ordinare piccole quantità di carta, quelle che poteva permettersi di pagare da 6 a 10 risme in una volta, ordinandole con un anticipo di due settimane. Anche se il volume era già in corso di stampa, egli stava ancora scrivendo gli ultimi capitoli. Quando le bozze erano pronte alla OK Press, egli le prendeva e tornava alla sua stanza di Cipiwada, le correggeva e le restituiva. Qualche volta era Kantvedi, un ragazzo quattordicenne che viveva nel tempio di Cipiwada con i suoi genitori che portava le bozze avanti e indietro per lo svami. Negli ultimi mesi del 1962, tuttavia, Bhaktivedanta svolgeva un lavoro giornaliero per la OK Press. La sua passeggiata attraverso le impenetrabili e affollate vie di Cipiwada lo guidava presto in una strada situata nei pressi della moschia a Giamma. La strada portava al rumoroso Chauri Bazar, pesante di traffico. Era un quartiere in cui l'occupazione prevalente era la lavorazione della carta, dove operai, con corde legate alle spalle, spingevano su piccole ruote di ferro grossi carri di legno, pesantemente carichi di cumuli di carta. Per due isolati, la sola attività era quella dei commercianti di carta, Hariram Gupta & Company, Rup Chand & Figli, Bengal Paper Mill Company Limited, Universal Traders, Janta Paper Mart. Le aziende si susseguivano una dopo l'altra, anche giù nei vicoli laterali. Nei dintorni le vetrine dei negozi erano disordinate e piene di colori. Il traffico pedonale era così febbrile che per una persona il fatto di esitare anche per un momento poteva essere causa di scontro. Carri e riksha trasportavano carta e altre mercanzie avanti e indietro sulle strade. Talvolta un operaio urtava passando con un pesante carico di pagine sulla testa e il cumulo si piegava giù sulle due estremità. Il traffico era veloce e un pedone distratto o lento rischiava di essere colpito da un carico che sporgeva dalla testa di un portatore o da un carro di passaggio. Occasionalmente un uomo che stava accovacciato al bordo della strada schiacciava carbone in piccoli pezzi per venderla. Piccoli negozi agli angoli attiravano gruppetti di clienti in cerca di sigarette e di pan. Rapidamente il negoziante spargeva la spezza di pan su una foglia di beter. Allora il cliente se ne andava e procedeva lungo la strada masticando il pan e sputando saliva tinta di rosso. In mezzo a questo ambiente dove il distretto commerciale di Chauri Bazar si mescolava la vita delle abitazioni e i bambini giocavano nelle vie piene di pericoli. Bhaktivedanta Swami era una figura gentile a vedersi eppure determinata. Mentre egli camminava superando le abitazioni, i venditori di mattoni, i venditori di granaglie, i negozi di dolci e gli stampatori, al di sopra della sua testa si potevano notare fili elettrici, piccioni e corde per la biancheria tese dai balconi delle case. Infine egli arrivava alla hockey press situata di fronte a una piccola moschea. Arrivava con le bozze corrette per rivedere ansiosamente il lavoro di stampa. Dopo quattro mesi, quando il libro era stampato e le pagine erano ammucchiate sul pavimento della stamperia, Mr. Hitzaran Sharma provvide a trasferire l'opera alla legatoria. Il lavoro di rilegatura era fatto in gran parte a mano, con un metodo antiquato e richiese un altro mese. Bhaktivedanta Swami andava là e osservava gli operai. Un gruppo di uomini sedeva in una piccola stanza circondato da mucchi di carta stampata. Il primo operaio prendeva una pila di pagine stampate, ripiegava rapidamente le pagine in due e le consegnava a un altro operaio che procedeva all'operazione successiva. Le pagine venivano ripiegate, cucite e riunite, poi venivano poste in una morsa e pressate insieme prima di essere ritagliate su tre lati con una taglierina a mano e incollate. Gradualmente il libro era pronto per ricevere la dura copertina definitiva. Oltre alle sue visite alla OK Press e alla legatoria, Bhaktivedanta Swami occasionalmente attraversava il fiume Yamuna per andare alla Rada Press di Mr. Hitzran Sharma, dove si stavano stampando circa mille copertine per il volume. Hitzran Sharma Swamiji si spostava di qua e di là, radunava tutte le donazioni che era possibile radunare e le depositava. Andando qua e là, era sempre insieme a molte persone. Era entusiasta che io facessi tutto ciò che era possibile. Aveva una gran fretta, diceva sempre, il tempo passa, il tempo passa, fa presto. Anche con me si infastidiva e voleva che io facessi il suo lavoro prima. Io però dipendevo da Dalmia e gli dicevo, il tuo lavoro deve essere secondario per me. Allora lui rispondeva, mi hai fatto perdere due giorni interi, cosa succede Sharma G? Vengo qui e ti dico di farlo in mattinata e tu non l'hai fatto fino a quest'ora. Io però replicavo, durante il giorno non ho tempo e lui concludeva che gli avevo fatto perdere completamente la giornata. Faceva molte pressioni su di me, questo era il suo temperamento. La rilegatura del libro era rossa, il colore di un mattone d'argilla ed era incisa a lettere d'oro. Bhaktivedanta Swami aveva fatto il progetto della copertina e l'aveva consegnato a un giovane artista bengali che si chiamava Salit affinché la realizzasse. Il dipinto, che era la completa manifestazione del mondo materiale e spirituale, si estendeva sull'intera copertina. La parte anteriore era dominata da un fiore di loto rosa all'interno del quale si vedevano i divertimenti di Radha e Krishna Vrindavana e anche Sri Chaitanya che cantava e danzava con i suoi associati. Dal pianeta di Krishna a forma di loto emanavano dorati raggi di luce e in quella radiosità apparivano molti pianeti spirituali simili a soli. In ogni pianeta era seduta una differente forma di Narayana a quattro braccia, il cui nome era scritto al di sotto di ogni pianeta. Trevikrama, Keshava, Purushottama e così via. Al fondo della copertina, inscritto in un ovale, vi era Mahavishnu dal quale emanavano gli universi materiali. Sui risvolti interni della copertina, vi era la spiegazione dell'illustrazione fatta da Bhaktivedanta Swami. Quando la stampa e la rilegatura furono completate, le copie finite erano mille e cento. Bhaktivedanta Swami ne ricevette cento e l'editore ne teneva il conto. Con il ricavato della vendita di cento copie, Bhaktivedanta Swami continuava a liquidare il suo debito allo stampatore e al rilegatore. Poi riceveva un'altra fornitura di libri. Questo continuava finché il suo debito non era liquidato. Il progetto di Bhaktivedanta Swami era di pubblicare un secondo volume con i profitti del primo e un terzo volume con i profitti del secondo. Kantvedi arrivò per ritirare le prime cento copie. Bhaktivedanta Swami aveva assunto un uomo che trasportasse i libri, disposti in larghi cesti, su un carretto a mano e li depositasse al tempio di Cipiwada. Qui Bhaktivedanta Swami li accatastava sul bancone nella sua stanza. Bhaktivedanta Swami andò di persona a vendere i suoi libri e a presentarli a personalità. Il dottor Radhakrishnan, che gli aveva concesso un'udienza privata, acconsentì a leggere il libro e a scrivere la sua opinione. Hanuman Prasad Poddar fu il primo a scrivere un resoconto favorevole. È fonte di grande piacere per me che il sogno tanto a lungo accarezzato sia ora diventato realtà con questa pubblicazione e con quelle che seguiranno. Ringrazio il Signore per aver permesso, con la sua grazia, che quest'opera vedesse la luce. Ok, terminiamo qui la lettura della Śrīla Prabhupāda di Lambri. Śrīla Prabhupāda, Chī, Jai. Grazie a tutti. Chī, Jai. 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 no 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 Grazie a tutti Grazie a tutti